uè non fare il tacco incacchiato da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi abbiamo da recuperare le due cassette che ci chiedono delle sfide a tempo straordinario la prima si trova nell'isola fluttuante ed è sulla macchina gialla dietro al distributore quindi come vedete la macchina non è altro che il camioncino la cassetta si trova sopra qua ci avviciniamo la recuperiamo cassetta numero 1 presa quanto riguarda invece la seconda cassetta e l'ultima ragazzi bisogna andare nel negozio centrale quello di corso commercio dove hanno appena aperto in poche parole dove ci sono le librerie alla destra dell'insegna del pesce basta semplicemente entrarci e se passate da davanti salendo le scale troverete la musica setta sul pavimento se mi killano al volo mi incazzo comunque è qua la cassetta vabbè comunque è qua bene ragazzi io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e pigliate sta minchia di videocassetta ciao 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 ciao